MotoGP di Gian Antonio gradirebbe l'opzione Honda LCR. Salve cari appassionati di motorsport e benvenuti su The Sport News. Oggi ci troviamo a discutere di uno dei temi più caldi nella scena della MotoGP. Il futuro incerto di Fabio di Gian Antonio e la sua possibile opzione con la Honda LCR. Ma prima di immergerci in questo avvincente argomento, assicuratevi di cliccare sul pulsante iscriviti e di attivare le notifiche per non perdere neanche un aggiornamento su tutto ciò che riguarda il mondo delle corse. Il nostro campione italiano, Fabio di Gian Antonio, è attualmente alle prese con una situazione delicata nel team Gresini Racing. Con l'arrivo di Mark Marquez, il suo futuro nel team sembra essere in bilico. Tuttavia, sembra esserci una luce in fondo al tunnel e si chiama Honda LCR. Il terzo posto di Marquez al GP di casa Honda in Giappone potrebbe essere solo l'inizio di una serie di cambiamenti. Gigi Dalligna ha rivelato che il numero 93 sta considerando un passaggio alla Ducati Satellite. Questo aprirebbe la strada per Fabio di Gian Antonio, il quale potrebbe prendere il posto in Honda con Cecchinello. Ma cosa pensa di Gian Antonio di questa possibilità? Dopo il Gran Premio del Giappone, ha rilasciato alcune dichiarazioni che fanno riflettere. Ha sottolineato la sua buona relazione con Lucio Cecchinello, il capo della squadra LCR Honda, dicendo «Se non ho un posto per l'anno prossimo e Lucio ha un posto per me, prenderò questa opportunità a braccia aperte». È interessante notare che, nonostante le difficoltà che Honda sta affrontando quest'anno, Fabio crede ancora nella forza del marchio Honda e non esclude l'idea di unirsi a loro. «Onda è sempre Honda. È una delle più grandi aziende nel settore delle moto al mondo», ha affermato. «Quindi sembra essere aperto a diverse possibilità. Ma cosa accadrà se di Gian Antonio dovesse optare per la Honda LCR? Questo lascerebbe un vuoto nel Gresini Racing, ma ecco dove si inserisce un'altra pedina del puzzle. Se Marquez si unisse a Gresini, Zarco potrebbe finire alla Repsol Honda, liberando così il posto nella squadra LCR. E lì sorge la domanda. Fabio di Gian Antonio potrebbe essere il prescelto per quella sella? Il giovane italiano ha chiarito che la sua priorità è rimanere nella classe regina, la MotoGP. Sebbene stia esplorando opzioni nella Moto2, il suo cuore è ancora nel paddock di MotoGP. Tuttavia, ha aggiunto, «Quando non ci saranno più manubri disponibili, ovviamente potremo valutare qualcos'altro». Cari spettatori, siamo di fronte a uno scenario intrigante e incerto nella carriera di Fabio di Gian Antonio. Cosa accadrà? Sarà lui il prossimo a cavalcare la Honda LCR? La MotoGP continuerà ad essere il suo palcoscenico? Condividete le vostre opinioni nei commenti qui sotto e non dimenticate di iscrivervi al nostro canale per rimanere aggiornati su tutte le ultime notizie dal mondo dello sport. E con questa vi salutiamo e vi diamo appuntamento al prossimo entusiasmante aggiornamento su The Sport News. Buonиз